ciao a tutti i ragazzi benvenuti nel canale gameplays saluto dal vostro amico salvo in questa videoclip parliamo dei futuri giochi che porteremo sul canale però prima di iniziare come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui video che porto e adesso possiamo parlare dei giochi che porterò però in primis voglio rispondere a dei messaggi che mi sono arrivati sul gioco Tenity in Wonderland io ho pubblicato un paio di video ma mi sono accorto che il gioco non piace forse per il fatto perché non è parlato in italiano ma è sottotitato italiano questa cosa di qua se io l'avessi saputo prima sicuramente il gioco non l'avrei comprato però essendo che sono un partito della serie borderlands ho deciso di giocarmelo in privato perché proprio mi sono accorto che non interessa però non importa non è un problema vediamo i giochi che porteremo sul canale ragazzi allora come voi vedete sul canale io sulla community del mio canale ho pubblicato un video di un open world simile a un sos like vi vorrei invitare a dare una guardata e a darmi un commento su quel gioco anche se io poi aspetto un altro gioco che dovrebbe uscire tra due o tre mesi che è sempre sul genere souls che poi vi farò vedere quindi ora stavo guardando sul playstation plus no scusate sul playstation store che giochi ci sono quindi appena ma lo sarò sprucciato tutto vediamo poi cosa posso portare speriamo che ci sia qualche cosa interessante più domani vengono pubblicati i giochi del playstation plus so che oggi dovrebbe essere annunciato il nuovo abbonamento di playstation almeno così dico nel rumor vediamo se è vero allora ragazzi detto ciò voglio ringraziare perché ho ricevuto tanti messaggi di complimenti per le guide pubblicate su el del ring specialmente quella più complessa che è di 33 video dove io ho esplorato tutto al cento per cento quindi ho ricevuto tantissimi messaggi che le mie guide stanno aiutando e questo a me mi fa tanto 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 piacere poi avete visto che ho pubblicato il platino questo per me è un motivo di orgoglio io ho platinato tutti i giochi front software mi manca solo di monsole per ps5 e appena avevo la ps5 platineremo anche quello quindi ragazzi poi vi informerò appena approvisionato nel dettaglio i giochi dello store cosa porterò e vi farò sapere una nuova videoclip in taccasso se poi avete dei giochi da consigliarmi scrivetemelo nei commenti io poi do una guardata in taccasso poi decideremo di da farsi sempre insieme perché io vi voglio sempre coinvolgere quindi io adesso ringrazio tutti quanti do sempre appuntamento sul canale ora io vi saluto pubblico la videoclip mi raccomando un bel like per sostenere il canale io vi ringrazio sempre e comunque ragazzi quindi adesso un saluto dal vostro amico salvo e come dico sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao